Sul sagrato del convento di San Nicandro, ormai il sindaco per la salute più che mai non resta per i credenti affidarsi al trascendente, visto quello che sta accadendo al 118 del Santissimo Rosario che tra due giorni sarà demedicalizzato, almeno la notte. Verrebbe certamente da prenderla un po' anche con la battuta che fa lei, senza voler essere profani, la vera verità, e che è drammatico, quello che è desolante, quello che continuiamo a vedere tutti i giorni sulla tutela, che non c'è del diritto alla salute dei cittadini di questa regione. Negli anni, prosegue Ricci, l'ospedale di Venafro ha perso il pronto soccorso, poi la mannaia sul punto di primo intervento, parzialmente compensata dalla decisione di potenziare la postazione del 118. Ora assistiamo a dieci passi indietro e quindi alla demedicalizzazione di questa postazione. Lo si fa dall'oggi al domani. Sicuramente è vero che ci sono dei problemi, voglio credere a quello che viene riferito sulle problematiche di organico, però è vero anche che c'è una disponibilità da parte di medici e sanitari in genere del 118 a svolgere tutte quelle attività aggiuntive che possano garantire l'effettività del servizio su tutto il territorio regionale e quindi anche su Venafro e su questo si continua a perdere tempo in burocrazia e carte e non a risolvere la problematica. Sembra che ad Agnone il sindaco sia andato a battere i pugni in regione e quanto pare, stando ai risultati, il 118 è stato ripristinato H24. Lei che ne pensa? Ognuno avrebbe le sue ragioni, questa è la verità. La verità è che hanno ragione tutti perché tutti i cittadini hanno diritto di essere tutelati. Col collega Saia ci sentiamo continuamente, anche ieri proprio su questo argomento ci siamo confrontati. Se questa strada delle interlocuzioni non dovesse produrre risultati, e la verità è che io non sono troppo fiducioso perché ormai ho smesso di avere fiducia in alcune promesse che non sono state mai mantenute, l'unica strada che resta è quella del ricorso. Ripeto, un comune che decide di fare un ricorso contro un'altra istituzione, in questo caso l'ASREM e la Regione, la dice lunga sul livello che abbiamo raggiunto di difficoltà di interlocuzione istituzionale. Ci può dire cosa ha detto a Saia? No, la verità è che con Saia, quando ho detto al sindaco che sto arrabbiato perché mi hanno demedicalizzato la postazione 118, lui mi ha detto che siamo in due perché l'hanno demedicalizzata anche a me e io gli ho spiegato, probabilmente sembra che la tolgano a me e la diano a te, ma si rende conto che due sindaci che sono sul territorio tutti i giorni e che si confrontano tutti i giorni con le problematiche, ma potremmo parlare anche dei problemi che stanno vivendo nella zona di Frosolone e di Macchiagode, nella Valle del Volturno in cui si trovano in questa condizione da anni, lei si rende conto che cosa significa per i cittadini e per un sindaco che rappresenta i cittadini doversi mettere a discutere cosa lasciano a te e cosa tolgono a me. È una vergogna in cui stanno riducendo la sanità di questa regione e questo è il motivo per cui il 18 aprile i sindaci di questa regione andranno a Roma a manifestare per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, ciò che altri non fanno proveranno a reclamare i sindaci di questa regione.